Sale a 450 il numero di casi positivi al covid-19 in Abruzzo. Dimezzato il numero rispetto a ieri quando si era toccata a quota 122 casi in un solo giorno. Oggi i test sui tamponi eseguiti nei laboratori di Pescara e Teramo hanno restituito 65 positività. Attualmente sono 48 le persone che hanno necessità di respirazione assistita e sono per questo in terapia intensiva. Mentre 190 i pazienti sono ricoverati in ospedale e 192 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 17 pazienti deceduti, l'ultima in ordine cronologico questo pomeriggio a Montesilvano con la notizia che è stata data in diretta nel collegamento con il sindaco Ottavio De Martinis. Una nostra concittadina di 81 anni è purtroppo deceduta a causa del coronavirus. Non ce l'ha fatta, questo vuoi la tarda età, vuoi la difficoltà che aveva da giorni ricoverata in ospedale. Purtroppo questa notizia ci rattrista tantissimo e ci serve ancora più la mordito affinché si possa capire quanto sia importante assumere dei comportamenti responsabili in questo periodo. Sale lievemente anche il numero di pazienti clinicamente guariti. Sono otto infatti coloro che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al covid-19 sono diventati asintomatici. Restano due i guariti in maniera definitiva perché risultati negativi in due test consecutivi, anche se il numero potrebbe essere differente in quanto alcuni dei pazienti clinicamente guariti sono ancora in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 2.695 test, di cui 1.606 sono risultati negativi e ad oggi si procede con un numero di esami diagnostici tra i 500 e i 600 al giorno. Pescara resta di gran lunga la ASL più colpita dall'emergenza con 259 casi positivi. 30 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Monalacuida, 80 alla ASL Lanciano Vasto Chieti e 81 alla ASL di Teramo. Grazie a tutti.